Cari amiche, cari amici del Piemonte della Misericordia, vi porto il saluto e l'augurio più affettuoso di tutti noi che operiamo per questa meravigliosa istituzione. È una Pasqua molto particolare questa, che noi abbiamo vissuto cercando di portare un momento di sollievo a chi ha bisogno. E questo ci siamo riusciti per la vostra generosità ed è di questo che io voglio ringraziarvi. Veramente grazie, grazie da parte dei tanti che hanno avuto in questi giorni, certamente tristi, un piccolo sorriso. Grazie, grazie davvero.